e ci mette al secondo posto al mondo per le capacità tecnologiche marine. Quindi tutto quello che è marino, subsea, autonomous shipping, tecnologie estrative e di esplorazione sono sicuramente leader mondiali. L'università ha una visione che stiamo distribuendo a tutta Europa, knowledge for a better world, quindi conoscenza per un mondo migliore. Fondamentalmente si cerca di mettere a disposizione tutte quelle che sono le competenze e le capacità dell'università per un mondo migliore, per aiutare a creare valori economici, culturali e sociali. È una università grande, è la più grande nella Norvegia, lo è diventata l'anno scorso quando abbiamo, di fatto, ci siamo fusi con altri tre campus, quindi portando l'università da una situazione locale a Trondheim, che è una città a 500 km a nord di Oslo, ad avere tre campus distribuiti su tutta la Norvegia. 40.000 sono gli studenti ad oggi dell'università, 6.700 gli employees, di cui 4.300 sono in posizioni scientifiche. Voi sapete che i paesi nord ci guardano molto anche al gender balance, 40% sono donne. 350 dottorati, 8 facoltà, 56 dipartimenti, 1 miliardo di euro all'anno di turnover, di cui il 25% viene da progetti esterni. E' l'università che forma l'85% degli ingegneri in Norvegia, quindi è un'università politecnica per eccellenza. Queste sono le sedi, come vedete Trondheim è lassù, ci vado una settimana al mese, è sempre un'esperienza interessante. Olesund e Jovik sono due città a nord di Oslo. E una delle cose belle è un'università in cui un Nobel Prize è arrivato nel 2014, quindi è un'università di assoluto prestigio e il Nobel. Ne è testimonianza, probabilmente avrete sentito parlare dei congi di Moser e il Nobel per la medicina, hanno scoperto il GPS del cervello. Quindi hanno avuto un premio Nobel per questo. Queste sono le facoltà, come ogni università orientata per le scienze e tecnologie, si lavora su architettura, si lavora sulle tecnologie, scienze umanistiche anche, soprattutto per tutti quelli che sono gli aspetti di social acceptance e economia, quindi anche tutti gli aspetti di business model e quant'altro, educazione del corpo professori, scienze naturali, scienze sociali e medicina. Ma per intercettare la tipica verticalità delle facoltà di università sono state create aree orizzontali e in particolare l'università ha deciso di darsi quattro aree strategiche, di cui una è l'energia, perché l'energia, soprattutto le rinnovabili, sono uno degli asset principali delle università, salute ovviamente, oceani e sostenibilità intercettate in forma orizzontale dalle nanotecnologie, l'ICT ovviamente, le biotecnologie. Un flash, quello che è l'attività orizzontale di fatto indica quali sono le aree di interesse di NTNU, quelle su cui siamo operativi, come vedete c'è tutto. Tecnologie rinnovabili, con particolare riferimento alle tecnologie solari, parliamo di fotovoltaico e non di solare a concentrazione, bioenergia, offshore wind power, efficienza energetica, inclusa quella delle imprese, CCS, purificazione storica dello CO2, esplorazione ovviamente di oil and gas, che è un asset importante del Paese. Tenete presente che per cultura imprese norvegesi e sistema di ricerca e università sono legate a stretto filo, tant'è che tutte quelle che sono poi le azioni di ricerca e sviluppo dell'università sono concordate anche con le imprese norvegesi. Quindi di fatto c'è proprio un sistema di ricerca e innovazione messo a servizio del sistema produttivo del Paese. La parte tutta di politica e di public engagement, quindi la parte sociale dell'energia, smart energy system, particolarmente smart grid, energy storage, hydro power, e poi metallurgia e analisi avanzata termodinamica, includendo anche tutto quello che sono le smart cities. Vi ho aggiunto anche quello che sono la sostenibilità, perché le smart cities rientrano qui, anche se sono di fatto un tema energetico, tutta la parte di adattamenti a cambiamenti climatici e anche tutta la parte di oceani, perché di fatto anche qui c'è qualcosa che ha a che fare con l'energia, sia per quanto riguarda wave energy, sia per quanto riguarda tutta la parte di trasporto e trasporto autonomo. Due numeri. L'università è in linea con quella che è il dettame del governo norvegese. Il governo norvegese ha detto che nell'FP7 abbiamo messo un sacco di soldi, nell'Horizon 2020 stiamo per mettere un sacco di soldi, pretendiamo che la Norvegia porti a casa il 2%. Credo che abbiano chiuso il settimo con un 1,68%. Quindi di fatto si sono tutti messi giù a testa bassa per raggiungere l'obiettivo di portare il Paese a un 2% di ritorno da Horizon 2020. Questo per NTNU ha significato darsi un obiettivo di raddoppio di quello che era stato l'FP7. Parliamo di circa 100 milioni di euro in progetti. Ad oggi NTNU ne ha raccolti 95 per un totale di circa 51. Considerato che ci sono circa il 60% dei fondi ancora disponibili, pare che l'obiettivo possa essere raggiunto, ma ovviamente non diciamo gatto finché non ce l'abbiamo nel sacco. Questa è giusto una overview di quelle che sono l'attuale distribuzione di progetti all'interno di NTNU sui tre pillar. Come vedete, a dispetto di tante università, in realtà la distribuzione è abbastanza omogena sui tre pillar. Quindi non siamo solo su Excellent Science, ma lavoriamo anche sui cosiddetti TRL intermedi. In particolare, come vedete, su Energia, circa l'11% di entrate sono su progetti legati ai rinnovabili. Su questo dato, per esempio, mancano gli ultimi tre progetti che abbiamo vinto nell'ultima valutazione dei bandi di energia. NTNU si è data anche una distribuzione di capacità cercando di organizzare attività che possano spingere sia la ricerca eccellente che l'eccellenza di insegnamento e l'innovazione. È un'università che, per esempio, ha un technology transfer office, ha una squad entrepreneurship e ha anche degli incubatori e degli acceleratori per creare nuove imprese. Quindi è una realtà veramente interessante. Su Energia, queste sono le attività, diciamo, in sintesi che facciamo. In dettaglio abbiamo nove centri nazionali che coordiniamo o di cui siamo partner sulle rinnovabili. Quelli sono centri, cosiddetti, for environmental friendly energy research. Quelli su cui lavoriamo sono hydropower, zero emission enabled, quindi parliamo di distretti a emissione zero e building autonomi. CCS, bio-based fuels and energy, electricity distribution, energy efficient industry, solar cell technology, energy system integration and sustainable energy studies. Questi sono in dettaglio i centri che ho listato prima, non vi faccio perdere, ma comunque avrete poi il slide per approfondire. Ho due parole sul nostro centro di hydropower. I temi su cui lavora sono strutture ovviamente di energia idrica, turbine, la parte di marketing services e ovviamente un design che sia ecosostenibile. Questi sono i partner con cui collaboriamo in uno di questi centri eccellenza. Quindi come vedete NTNU è collegata con alcune, forse tutte le principali realtà industriali e di ricerca. SINTEF credo che sia noto ai più in questa sala, ma vedete anche colossi come ABB, Startcraft e altri. Un esempio è anche sul discorso Energy Efficient Functional Buildings, la zero emission house che abbiamo all'interno del nostro campo. Sì è di fatto un living lab. Per un certo periodo di giorni all'anno è abitata per prendere misure, per testare nuove tecnologie, per integrare le stesse all'interno di una struttura che è un laboratorio che viene, come vedete, strutturato in modo da poter essere completamente autonomo. Sul tetto ci sono celle solari, ci sono pompe geotermiche, uso di materiali, equilibrio di aria all'interno, per cercare quelli che sono i mix migliori per rendere una struttura abitativa il più ecocompatibile e di fatto energeticamente indipendente possibile. A questa esperienza si è aggiunta recentemente la creazione di un zero emission neighborhood group, che parte da questo e alla singola abitazione si aggiunge un laboratorio di testing di componenti, dalla possibilità per esempio di cambiare completamente una parete per misurare quelle che sono le trasmittanze delle finestre e delle componenti che si possono mettere in una casa. Sulla CCS il lavoro è fatto sia sul quel che riguarda la parte di cattura e poi storage con trasporto, quindi tutta la completa catena di valore della gestione della CCS, così come si sta lavorando sulla cattura, trasporto e storage in bacini del mare del nord, quindi sottomarino. Su questo progetto, per farvi un esempio di quelli che sono i fondi stanziati, dovete dividere per un fattore 10, parliamo di circa 50-60 milioni di euro investiti da vari attori su un progetto che raccoglie in cluster partner da tutta la Norvegia per un periodo di 8 anni. Anche qui, come vedete, i partner sono parecchi, non c'è solo una partnership norvegese, c'è TNO come vedete o UKCCS che sono inglesi e quindi questi progetti per cluster e anche Ansaldo, che credo che conoscete tutti anche meglio di me, e quindi sono progetti che di fatto cercano anche tramite partnership europei di portare risultati a livello nazionale. Un cenno su altre aree di ricerca, lavoriamo ovviamente su anche materiali, tutto quello che è materiali per gli edifici, lavoriamo su soluzioni di trasporto efficienti, includendo anche sviluppo di macchine elettriche, così come codici di ottimizzazione per gestione del traffico. Siamo coordinatori di Excel, che è una infrastruttura di ricerca europea per tutto quel che riguarda la CCS, per l'Italia su questa infrastruttura partecipa OGS, e se non erro perché è una cosa su cui avevo lavorato quando lavoravo per Enea, ci dovrebbe essere anche l'Enea, nonostante il coordinamento sia di OGS. Per quel che riguarda l'apertura...